Si svolgerà oggi e domani a Napoli la 99esima Assemblea Nazionale di Manager Italia, la Federazione Nazionale di Dirigenti, Quadri e Professional di Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato, con più di 37.000 associati in tutta Italia. Dopo la relazione del Presidente di Manager Italia, Mario Mantovani, l'Assemblea proseguirà con una tavola rotonda sul tema Politiche Attive e Sviluppo delle Competenze, in cui si farà il punto sulle nuove competenze manageriali necessarie a favorire l'incontro tra fabbisogni delle imprese e mercato del lavoro. Siamo a Napoli per la nostra 99esima Assemblea Nazionale di Manager Italia perché pensiamo che si debba partire da una crescita basata sulla qualità del lavoro e delle competenze. Il Sud, la Campania in particolare, sono un serbatoio di competenze, di giovani e di volontà di crescita e di ripartenza. Le risorse del PNRR devono essere orientate non soltanto a costruire le necessarie infrastrutture, ma anche quell'infrastruttura immateriale che aiuta la crescita. Per questo abbiamo pensato di dedicare questa Assemblea alle politiche attive del lavoro, che non sono soltanto un modo per aiutare i colleghi che escono dall'azienda, ma soprattutto per rimettere in circolo queste competenze assolutamente necessarie per il nostro Paese. Noi abbiamo ormai da circa dieci anni iniziato un percorso che ha portato, anche se con un andamento ancora troppo lento, ha portato allo sviluppo di maggiore managerialità all'interno dell'azienda. Il nostro lavoro è sempre di più diffondere il tema delle competenze e della managerialità perché riteniamo che sia direttamente proporzionale lo sviluppo delle aziende e l'aumento sensibile nelle attività produttive e dei servizi sul territorio rispetto a quello che è lo sviluppo delle competenze in queste stesse aziende. Oggi noi siamo contenti di aver portato qui a Napoli l'Assemblea Nazionale di Manager Italia che rappresenta il commercio terziario e servizi in cui oltre 250 manager di tutta Italia si confronteranno sui temi delle politiche attive a favore dei manager, delle competenze e delle stesse aziende.